Grazie, allora adesso continuiamo a parlare di viabilità, quindi di strade e soprattutto di autostrade. Reazioni dopo la nostra inchiesta sulle autostrade abruzzesi. Prendono la parola l'Associazione Costruttori di Confindustria e i sindacati che polemizzano contro l'affidamento in subappalto dei lavori che vengono già assegnati senza gara d'appalto. Le organizzazioni dei lavoratori contestano poi anche la prevista riduzione dei casellanti. Gabriele Mastellarini. Decisa presa di posizione del Lance, l'Associazione Nazionale dei Costruttori edili di Confindustria sui lavori assegnati in house e senza gara d'appalto dalle concessionarie autostradali. Lavori che vengono spesso subappaltati ad altre imprese. In Abruzzo è il gruppo Toto, proprietario di Strada dei Parchi, che commissiona in house fino al 60% delle opere come previsto dalla legge 14 del 2009. Norma molto contestata sulla quale c'è stato un intervento del governo Monti che con due decreti ha ridotto la quota di affidamento in house al 40% a partire dal 2014. Ma in molti sostengono che questo termine sarà prorogato. Antonio Dintino, presidente del Lance Abruzzo. Io penso che sia inaccettabile. Adesso non so se la concessione che ha la Strada dei Parchi di Toto e Soci è stata avuta con una concessione diretta o con una gara pubblica, di evidenza pubblica, ma appare chiaro che la stragrande maggioranza delle concessioni italiane sono state date a trattativa privata. E quindi è giusto, e il Lance Nazionale se ne fa carico ed è una propria battaglia, che le gare vengono date a trattativa pubblica. Senta, per quanto riguarda il ricorso ai subappalti, molte società ricevono in house questi lavori e poi li affidano a terzi. Anche qui, la vostra posizione qual è? Beh, certamente questa è un'altra piccola anomalia, perché poi fanno aumentare i costi, i costi che poi si ribaltano sui cittadini attraverso poi i pedaggi autostradali. La concessione vigente tra Anas e Strada dei Parchi è stata sottoscritta il 18 novembre 2009, pochi mesi dopo l'approvazione della legge 14. La scadenza della gestione è fissata al 31 dicembre 2030, salvo proroghe. A settembre 2012 la spesa per investimenti sull'A24 e A25 è di 75 milioni circa, in linea con le previsioni del piano finanziario. Inoltre sono state fatte manutenzioni ordinarie per 15 milioni. Anche i sindacati contestano gli affidamenti in house e i subappalti. Alessandro Di Naccio, segretario regionale della FITCISL, il sindacato più rappresentativo in strada dei parchi. C'è una perdita dei posti di lavoro per chi è dipendente della strada dei parchi, perché dando il subappalto i lavori, è chiaro che chi già lavora nella strada dei parchi perde posti di lavoro. Avete riscontrato la presenza di questi subappalti? Sì, sì, ci sono in subappalti molti lavori, insomma, sono stati subappaltati. Che genere di lavori? Lavori, diciamo, di manutenzione lungo l'autostrada. Le manutenzioni straordinarie sono decise ogni cinque anni. Le appalta la concessionaria con regole definite in convenzione e normativamente. I relativi progetti sono approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i costi di riferimento sono quelli del prezzario ANAS. I lavori vengono controllati da un'apposita struttura del Ministero sotto l'aspetto tecnico, giuridico, amministrativo e finanziario. Sempre le organizzazioni sindacali hanno protestato con forza sull'annunciata diminuzione del personale ai caselli. Nella strada dei parchi ci ha proposto la riduzione, diciamo, degli esattori da 190 a forza 140, anche 130 e questa cosa ci preoccupa molto. Perché vogliono ridurre gli esattori? Come li sostituiranno? Per fare un'automazione e diciamo che questo però, diciamo, non è proprio a livello di sicurezza, non è fatto bene perché se dovesse piove, dovesse fare la neve. Cioè, essendoci solo l'automazione, insomma, qualcosa si rischia a livello di sicurezza.